Un colloquio positivo e costruttivo, così i ministri dell'economia e delle finanze Daniele Franco, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini e dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti definiscono in una nota la videoconferenza durata circa un'ora con la vicepresidente della Commissione europea e commissaria per la concorrenza Margaret Festager sul dossier ITA e Alitalia. Il colloquio, con l'obiettivo di individuare in tempi rapidi una soluzione, si è svolto in un clima accordiale. La commissaria UE e i ministri hanno sottolineato la necessità di procedere nel segno della discontinuità. Il confronto tecnico verrà avviato all'inizio della prossima settimana per valutare nel dettaglio le possibili soluzioni per garantire che il nuovo vettore aereo nasca al più presto nel rispetto delle procedure del diritto nazionale ed europeo.